Il Parlamento europeo ha riconosciuto l'importanza della omeopatia. Attenzione, come supporto terapeutico nelle patologie di tipo oncologico. La famosa medicina dolce o anche integrata o alternativa, chiamatela come volete, nei secoli ci sono state tante definizioni, ma è stata promossa dall'Europa. E perché, così almeno leggiamo da articoli di giornali in Italia, rimane osteggiata? Per cercare noi per primi di capire e quindi attraverso la nostra voce farvi comprendere qualcosa di più rispetto a questo tema molto importante, oggi noi abbiamo interpellato la massima delle autorità, che è il dottor Giovanni Gorga, che è presidente di Omeo Imprese, che è l'Associazione dei produttori e distributtori di medicinali omeopatici. Ah, anche degli astroposifici, come si suol dire, poche parole, la medicina oristica, per capirci. Dopo la sigla ne faremo la diretta conoscenza. Ed ecco con noi appunto Giovanni Gorga, presidente di Omeo Imprese. La saluto cordialissimamente, benvenuto. Saluto anche io voi e ringrazio per il cortese invito, insomma. Vi ringrazio davvero. Omeo Imprese significa Associazione dei produttori e distributtori dei medicinali omeopatici. Abbiamo letto, presidente, da più di una testata omeopatia promossa dall'Europa, ma ancora osteggiata in Italia. E allora, pensando forse, sbagliando, che le cose fossero un attimino migliorate sul vostro fronte, le chiediamo come invece stanno le cose. Allora, io la ringrazio per la domanda. Allora, in effetti parto dall'inizio, ma cercherò di essere ovviamente molto breve e stare nei tempi giornalistici. Anche perché ho tante domande da farle. Va benissimo. Allora, in realtà l'Europa, come dire, tra virgolette, aveva già sdoganato la medicina omeopatica da tantissimi anni. L'ho fatto attraverso una serie di direttive che hanno avuto l'obiettivo di armonizzare questo tipo di mercato e di medicina all'interno dei diversi paesi dell'Unione Europea. Cioè, deve esserci una conformità. In sostanza, non può essere che in Francia o in Germania la medicina omeopatica viene rimborsata addirittura dal sistema sanitario nazionale. nazionale, in Francia lo era fino a due anni fa, e in altri paesi d'Europa, per esempio, non c'è alcun tipo di regolamentazione che ne regolamenta la distribuzione, oppure la professione del medico. Quindi che cosa ha fatto l'Europa nei decenni addietro? Ha intervenuta con una serie di direttive. L'ultima, in ordine di tempo, è stata recepita in Italia nel 2006 con un decreto legislativo che è proprio il decreto legislativo 219-2006. All'interno di questo decreto legislativo, che è il codice unico del farmaco, c'è spazio anche per alcuni articoli di legge che fanno riferimento alla regolamentazione del medicinale omeopatico. Il che significa, dottore, lo dico per tutti gli ascoltatori, che il medicinale omeopatico non è più, tra virgolette, il prodotto, il rimedio, ma è un farmaco. È un farmaco che, per poter essere venduto, commercializzato, distribuito, quindi restare sul mercato, deve ottenere un'autorizzazione dalla competente agenzia del farmaco di ogni paese d'Europa. Questa è una procedura che vale per tutti i paesi dell'Unione Europea, quindi nel nostro caso dall'AIFA, che valuta una serie di dossier, la parte qualità, sicurezza, tossicità, materie prime, quindi come si fa per i farmaci. In realtà il nostro procedimento, ad essere onesti come è mia abitudine, è leggermente più semplice in questo momento, perché si riferisce a medicinali che erano sul mercato a fare data dal 1995 e che con l'entrata in vigore della direttiva sa vassandire che siccome sono diventati farmaci tu non li puoi più vendere sul mercato così come prodotti, quindi te li devi registrare. Quindi, Presidente, perdoni, per completare l'informazione congrua e coerente che sta dando, come ogni farmaco, è un medicinale e quindi deve essere prescritto solo dal medico? Allora, è un medicinale che viene licenziato dall'Agenzia del Farmaco in base a una serie di prerogative e quindi può cambiare, non vi è una norma definita per tutti i medicinali. Generalmente il medicinale miopatico è definito come il cosiddetto un prodotto SOP, cioè senza obbligo di prescrizione. Questo come base. Ciò detto, in base alla sua composizione, AIFA, l'Agenzia del Farmaco, nel momento in cui rilascia l'autorizzazione per un determinato farmaco, lo dico con coniezione di causa perché è successo e ce ne sono tanti, può dire che comunque può limitarne il regime, per esempio, non so, l'uso pediatrico, la prescrizione obbligatoria, chiaramente su ricetta bianca, ma ci sono molti medicinali omiopatici che sono stati rilasciati dall'Agenzia del Farmaco con obbligo di ricetta, cioè senza la ricetta il farmacista non lo può vendere. Ecco. Ce ne sono tanti altri che sono stati licenziati, diciamo così, con appunto limitazioni pediatriche, cioè sotto i 12 anni non può essere somministrato. Questo ha maggior ragione, proprio perché si tratta di farmaci. e le dicevo, il processo è un po' più semplificato perché parliamo di farmaci che erano sul mercato da 30 anni e quindi per velocizzare si ha detto così, usiamo una strada un po' più breve, ma per medicinali nuovi che si vorrà inserire sul mercato viene richiesto un dossier, e questo è elemento di dibattito, diciamo così, viene richiesto un dossier che è sostanzialmente la fotocopia di quello che viene richiesto alle aziende allopatiche, seppure l'omeopatico, è una cosa diversa. Non c'è dubbio. Adesso, Presidente, veniamo anche a toccare un altro punto molto importante e non ci si deve nascondere dietro alcun piccolo grande dito. Il Parlamento europeo ne raccomanda l'utilizzo in casi clinici complessi di lungo decorso, anche nel corso di protocolli di chemio e radioterapia. Ecco, quindi come supporto terapeutico diciamo per il cancro nelle patologie oncologiche. Anche qua, io vorrei che lei dicesse con chiarezza, che ribadisse che non è una cura questa, ma è, parliamo di supporto, vorrei forse il Presidente sottolinearlo. Allora, ha fatto bene a dirlo ed è giusto ribadirlo, stigmatizzarlo, ricordarlo. Allora, la medicina omeopatica, infatti lei, credo l'abbia detto all'inizio, è medicina integrata, è medicina complementare. Il fine per un medico è quello di, come dire, alleviare le sofferenze del paziente, di restituirgli uno stato di salute e ancora di più uno stato di benessere. Il medico ha a disposizione diverse armi. Anche l'attività fisica è un'arma, è uno strumento che consente al nostro organismo di stare meglio se, come dire, praticato in maniera congrua, intelligente, così la dieta. La medicina omeopatica o cosiddetta medicina integrata è un altro strumento in più che il medico ha a disposizione. Allora, quello che dice il Parlamento europeo con questa risoluzione che, ahimè, è una raccomandazione, non ha alcun obbligo legislativo, non è come le direttive o i regolamenti. Ahimè. Però questo per farle capire che l'Europa è molto attenta a queste questioni. Dice sostanzialmente, attenzione, guardate che la medicina omeopatica è sicuramente un ottimo presidio e può essere utilizzata in modo integrato anche quando si somministrano terapie come la chemio, come la radioterapia, ma quelle terapie vanno somministrate. Allora, la medicina omeopatica non è una medicina che può curare il cancro al netto di qualche stregone o santone quello, come dire, una volta si diceva che la mamma degli ignoranti è sempre incinta, ma insomma, non serve a curare il cancro o il tumore, ma serve a alleggerire o far star meglio il paziente, siamo proprio più chiari, a migliorare la qualità della vita di quel paziente che purtroppo è costretto a soggettarsi a terapie chemioterapiche, radioterapiche che sappiamo tutti essere molto pesanti. Questo mi pare una sottolineatura importantissima e giusto che il presidente Gorga l'abbia fatto in prima persona. Senta, entriamo un poco più nel merito anche per dare informazioni, dicevo all'inizio, a chi ci sta seguendo. Si dice che la medicina dolce stia conquistando sempre più persone. i dati in vostro possesso cosa dicono e come ve lo spiegate? Allora, i dati in nostro possesso, le dico subito la chiusura dell'anno 2021, sostanzialmente, credo l'abbiate letto anche sui giornali, il comparto ha chiuso sostanzialmente alla pari rispetto all'anno precedente che, tutto sommato, è un successo visto tutto quello che ci circonda, anche perché c'è stato un aumento di volumi. io sono sempre molto chiaro, c'è stato, cioè si sono vendute più scatolette di farmaci, però il fatturato è stato più o meno il medesimo dell'anno precedente. Quindi, per noi è un dato comunque positivo, venivamo da alcuni anni abbastanza complicati, legati anche a questo processo di regolamentazione, perché tenga presente che, insomma, molti aziendi hanno rivisto i listini, hanno eliminato tanti prodotti dal mercato, perché ovviamente dovendoli registrare tutti, la registrazione è un costo, dottore, cioè significa allestire un dossier e sono decine di migliaia di euro e quindi molti prodotti sono scomparsi. Quest'anno c'è stata, devo dire, una assoluta ripresa confermata dai fatturati che hanno tenuto, dal numero di, dall'incremento dei volumi, quindi di pezzi venduti, e questo va in parallelo con quelli che sono i dati anche statistici sugli utilizzatori che sostanzialmente restano sempre tra gli undici e i dodici milioni, cioè una grande fetta di italiani continua ad affidarsi alla medicina omepatica. Noi durante il covid purtroppo, purtroppo, in assenza di terapie vaccinali o di altro, all'inizio abbiamo avuto alcune linee di prodotti che hanno avuto un'impennata di fatturato impressionante. Tanta era la richiesta da parte del paziente verso il farmacista perché, per esempio, lo diciamo, anche questa è una cosa utile da ribadire se posso, come la medicina omepatica non cura il cancro, non esiste il vaccino omepatico, eh? Il vaccino omepatico non esiste parlare di vaccino omepatico è un ossimoro, ok? Adesso non entro nel merito, non sto a spiegare tecnicamente per quale ragione, anche se, così, se lei mi autorizza ci si impiega due minuti, eh? Due minuti. Il vaccino è una sostanza, l'avete visto tutti dal covid, è una sostanza che, come dire, contrasta un determinato virus, germe o quello che sia, cioè è specifico, è come una chiave che apre solo quella serratura. Questo è il vaccino. Perché questo possa accadere, deve esserci un carico di anticorpi, insomma, di sostanza antigenica, insomma, abbastanza pesante in grado da attivare una risposta immunitaria. la medicina omiopatica, siccome si basa su concetti diversi, può sostenere il sistema immunitario in maniera aspecifica. L'immunità vaccinale è un'immunità specifica. C'è il vaccino per il covid, c'è il vaccino per la varicella, c'è il vaccino per la rosolia, o per il tifo, o per la malaria. L'omiopatia sostiene il sistema immunitario in maniera aspecifica, cioè attiva quelle difese immunitarie che non sono gli anticorpi, sono difese aspecifiche, sono le stesse che si attivano se io cado e mi sbuccio un ginocchio, sono i cosiddetti macrofagi, cioè è la prima difesa del nostro organismo, quindi crea una barriera e di questi medicinali, di questi immunostimolanti, che ovviamente non posso fare i nomi per ragioni logiche, alcune diciamo alcune di queste hanno avuto delle impennate di fatturato incredibili, tanto è la fiducia che il paziente ripone in queste terapie che non sostituivano il vaccino, ma sono anche in questo caso io posso fare il vaccino qualunque esso sia e posso assumere degli immunostimolanti omiopatici che creano una barriera ulteriore all'ingresso dell'agente patogeno. Certo, molto chiaro presidente. Senti, abbiamo visto la posizione dell'AIFA, ce l'ha spiegato prima, mi piacerebbe capire anche la posizione del Ministero della Salute e vado oltre, perché ci sono ancora molti pregiudizi da parte della classe medica? Allora, le devo dire la verità. Allora, diciamo che ci sono ancora molti pregiudizi, punto, perché ci sono magari poche trasmissioni come la sua, ok? e di fatto speriamo che aiuti ad abbatterlo qualche pregiudizio. Anche questo serve, non c'è dubbio. Allora, come le dicevo, la medicina omiopatica è, come dire, utilizzata in tutto il mondo, in tutto il mondo, in tutta Europa, non c'è neanche necessità di dirlo, perché appunto, tant'è che l'Europa ha sentito proprio la necessità di dire dobbiamo regolamentarla, perché viene utilizzata, è efficace, da dei benefici va regolamentata. Io le dico solo che nell'Unione Europea, tutti i paesi dell'Unione Europea, quasi tutti, c'è qualche eccezione che, le dicevo prima, la Francia, la Germania, addirittura la Svizzera, la rimborsano dal punto di vista sanitario, no? Cioè, viene rimborsata dallo Stato. Detto questo, non è così dappertutto, ma in tutti i paesi dell'Unione Europea, il medicinale omeopatico è corredato di indicazioni terapeutiche. Cioè, sulla scatoletta c'è scritto per cosa serve e all'interno della scatoletta c'è un foglietto illustrativo. Qui in Italia ad oggi ancora non è possibile. Qui in Italia ancora ad oggi non è possibile fare pubblicità sul medicinale omeopatico. Allora, tutte queste, diciamo, arretratezze, definiamole così, hanno una serie di ragioni, intanto culturali. Nel nostro paese si è sempre fatta poca cultura, informazione, anche, come dire, le aziende si devono prendere la propria parte di responsabilità, sia chiaro. Un'altra ragione è una ragione che sta proprio in questo particolare periodo nel fatto che questo medicinale è assurdo alla dignità di farmaco. Cioè, voglio essere chiaro, tutto il comparto omeopatico della medicina integrata sostanzialmente rappresenta l'uno, l'uno e mezzo per cento di tutto il fatturato farmaceutico italiano. Quindi, lei può benissimo capire che non dovremmo essere un problema per le big pharma, no? Per la grande e in effetti la causa magari di qualche resistenza non è questa perché noi siamo sinceri, parliamo di medicina integrata, non sostituiamo, non siamo alternativi e poi che cosa vuole che possiamo fare? Al limite un po' di solletico, niente di più. Il problema è in un problema di status, di immagine, cioè qualche resistenza c'è stata e si è acuita perché passando attraverso la classe medica, ma qui poi vorrei fare una distinzione, perché per le industrie farmaceutiche i farmaci sono quelli che producono loro, non quelli nostri, no? Che hanno una particolare tecnica di produzione, che sono privi di effetti collaterali e avrà sentito sicuramente, no? Beh, ma non ci sono le indicazioni terapeutiche per forza è acqua fresca, non fa niente, beh, lei sappia e lo sappiano tutti i suoi ascoltatori, tutti i suoi telespettatori, che solo in Italia non ci sono le indicazioni terapeutiche. Ora, siccome l'omiopatia non credo che sia soggetta alla legge dei climi di cui parlava Montesquieu, no? Per cui ogni paese a seconda della latitudine e longitudine si dà dei regimi politici, delle regole, allora non può essere che l'omiopatia non è acqua fresca, funzioni, sia efficace in Francia, in Germania, in tutti i paesi dell'Unione Europea, in Italia no, anche perché dovrebbe essere il contrario, abbiamo tutto dalla nostra parte, il clima, il sole, eccetera. Quindi, non ci sono le indicazioni terapeutiche, solo ed esclusivamente per una ragione politica, perché qui non c'è la volontà, la conoscenza, la cultura, di voler considerare il medicinale omiopatico una cosa diversa dall'allopatico, cioè la direttiva europea era uguale per tutti, è una direttiva, però tutti i paesi in quanto direttiva hanno la possibilità di recepirla in maniera elastica, no? Di adattarla al proprio sistema, l'importante è raggiungere l'obiettivo, mentre i regolamenti no, i regolamenti entrano a gamba tesa nei sistemi legislativi dei singoli paesi e così è, non si possono toccare. Allora, che cosa succede? Che in molti paesi d'Europa quando è arrivata la direttiva si è detto allora questi medicinali insomma sì, sono farmaci, ok, però sono la stessa cosa di un medicinale allopatico, possono fare uno studio anche in termini economici, attenzione, possono sobbarcarsi uno studio clinico cieco, doppio cieco, randomizzato su migliaia di pazienti per cinque anni, cioè stiamo parlando di milioni di euro. apro una parentesi, il fatturato medio di un singolo prodotto oscilla tra i 12 e i 15 mila euro. Questo è tutto, ok? Noi non facciamo, non abbiamo fatturati come quelli di Big Pharma, è vero che loro sì, per aspettare un'autorizzazione passano dieci anni, devono fare tante sperimentazioni, tanti studi, brevettano, hanno la possibilità di brevettare, di proteggere la propria proprietà, però nel momento in cui vanno sul mercato, cioè quel medicinale lì, quel farmaco che magari gode anche del rimborso dello Stato, fattura centinaia di milioni di euro. Il fatturato di un nostro prodotto oscilla tra i 12 e i 15 mila euro. Siccome Presidente Gorga siamo alla conclusione, ma ha lasciato... Se io poi mi lascio prendere. No, ma va bene così, ha lasciato però in sospeso una sottolineatura che riguarda la classe medica e molti medici ci stanno guardando. Lei faceva una distinzione tra i medici che sono e quelli che non sono e voleva sottolineare anche un'altra parte medica, immagino. Certo. Sì, grazie, la ringrazio per questa opportunità. Brevissimamente, da un recentissimo sondaggio, credo che sia dell'anno scorso, fatto, commissionato alla società EMG Acqua, quella del dottor Masia, risulta che sostanzialmente la percezione della medicina omiopatica tra la classe medica è assolutamente positiva. Un pediatra su tre utilizza quotidianamente medicinali omiopatici. Un medico di base su cinque utilizza quotidianamente medicinali omiopatici. Lo fa in modo integrato e attenzione, lo fa in modo integrato. Cioè, quel medico non è che deve essere un omiopata e deve avere studiato dieci anni alle scuole di antroposofia o tra le società scientifiche di omiopatia. Lo fa in maniera integrata. Prescrive l'immunostimolante, prescrive l'armica, prescrive un antinfiammatorio, un collirio, un integratore. Allora, quindi la percezione che il medico ha nei nostri confronti è buona. Il problema qual è? Si è acutizzato, lo dico apertamente, con il periodo del Covid. Che alcuni, alcuni autorevoli autorevoli, absidi, neuroverbis, autorevoli, medici, clinici, come dire, si sono arrogati anche il potere della decisione, no? E sono diventati consulenti, membri dei comitati tecnici, gestiscono l'agenda politica, gestiscono l'agenda politica e hanno il potere di condizionare l'agenda politica, le scelte della politica e anche quelle della classe medica. Perché, allora, lei si metta nei panni di un giovane specializzando o di un giovane medico di base il quale, tutto sommato, ma io, ma sì, guarda, me lo chiedono, ma io uno stimolantino lo do. E il collega dice, ma no, ma cosa fai? ma dai, ma stai scherzando, ma quella lì è roba da stregoni, non è così, non è così. Quindi, questa è una cosa sulla quale io mi batterò sempre. Ecco perché voglio l'intervento della politica, perché, oltre alla regolamentazione sul medicinale, anche la professione è regolamentata, anche la professione e vi è l'obbligo di iscriversi agli ordini dei medici, non è un'opzione, vi è l'obbligo. Quindi, anche quando si dice cacciamo i medici dagli ordini, c'è una legge, che li obbliga a iscriversi, si fa molta propaganda. Ecco. Presidente Gorga, qua innerviamo un tema che meriterebbe una, due, tre trasmissioni, ma tutte che si innervano una dietro l'altra, perché è complessa la situazione. Pensi quale momento stiamo vivendo tutti e speriamo bene. senta, io la ringrazio molto, sono contento di avere insistito per fare questa pubblicazione, convinto che comunque sia importantissimo dare corretta e congrua informazione. La ringrazio per questo. Ho la sensazione che ci si rivedrà qualche altra volta. Con grande piacere, con immenso piacere. La ringrazio, Presidente, buon lavoro. Grazie, grazie a voi. Buona serata, di nuovo, grazie ancora. E anch'io vi ringrazio, amici, che siete alla visione e all'ascolto, dandovi appuntamento immancabilmente per domani. Grazie.